Partiamo allora dalla Funakoshi, un'attività giovanile importante qua alla Spezia. Che 2017 è stato per voi? Diciamo che la formazione è stata la nota di riguardo, quindi formazione a 360 gradi, quindi non solo attività agonistica schillata sulla prestazione ma soprattutto sulla formazione. Quindi siamo in fase di ricostruzione di tutti i prerequisiti che ci serviranno poi nei prossimi anni per avere dei risultati agonistici. E poi tanto lavoro sul territorio per te dal punto come federazione che 2017 è stato anche lì. Sicuramente un 2017 ricchi di impegni, tanto lavoro ma anche tante soddisfazioni. Sicuramente personalmente dal territorio regionale a quello nazionale, in FIGILCAM settore Caratteri copre attualmente il ruolo di membro della Commissione Tecnica Nazionale che quindi è un ruolo di prestigio per la kickboxing e ho la delega di rappresentanza regionale e sempre per FIGILCAM Caratteri regionale sono il direttore tecnico. Quindi quest'anno è veramente... Questo mi ha portato insieme all'incarico di esperto della Scuola dello Sport del Coni a essere praticamente impegnato 24 ore su 24. Quindi tu che conosci bene tutte le arti marziali in varie vesti, che momento sta vivendo la Liguria? Beh, la Liguria è abbastanza spezzettata dal punto di vista un po' delle sinergie che si rivolgano a enti e a federazioni diverse. Questo è un vero peccato perché dal punto di vista numerico il background è veramente cospicuo e quindi potrebbe esserci un movimento che unito insieme in un'unica federazione potrebbe sicuramente dare dei risultati ottimi. Grazie. 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 Grazie.